Stava per mettere a segno un colpo all'interno di un appartamento di Vittoria l'uomo arrestato dagli agenti del commissariato di polizia. In particolare nella mattinata di ieri il personale della squadra volanti del commissariato di Vittoria è intervenuto presso un'abitazione ubicata in una zona centrale di Vittoria a seguito di segnalazione di furto in atto pervenuta presso la locale sala operativa. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti, dopo aver notato una delle finestre dell'abitazione socchiusa, trovavano all'interno di essa un soggetto che stava commettendo un furto. L'uomo, prontamente bloccato dagli agenti con ancora l'area furtiva in mano, veniva sottoposta a perquisizione personale che permetteva di rinvenire, occultati all'interno di una borsa, numerosi molini in oro, ciondoli e orologi, provento del furto perpetato all'interno dell'appartamento. In considerazione di quanto accertato dagli operatori di polizia, il 49enne è stato tratti in arresto in flagranza per il tentativo di furto. Continua senza sosta così l'attività della polizia di Stato nel territorio Ipparino, finalizzata al contrasto dei reati predatori.